Un saluto a tutti ragazzi, sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video, ci sono qui su GTA 5 per mostrarvi una nuova mod e oggi faremo una cosa piuttosto interessante, dato che faremo un colpo alla Pacific Standard, no non è vero, Pacific Standard si chiama? Sì, quella banca che si trova vicino ad Hollywood si dovrebbe chiamare Pacific Standard, ovviamente non me lo ricordo mai, per il problema del fatto che tipo, eh, succede che non te lo ricordi, fatto sta che possiamo fare questo tipo di programmazione perché è stata fatta appunto su due parti, la prima parte e la seconda parte, la moda è divisa in due parti, vi giuro non sto scherzando, infatti la prima parte sarà semplicemente la preparazione del piano come un colpo waste nella storia di GTA Online. E una cosa interessante, infatti se noi appunto dobbiamo andare in una zona, possiamo fare questo tipo di viaggio e arrivare fino alla destinata zona per iniziare il colpo appunto. Va bene, per i più acuti osservatori avete notato che comunque, nonostante ciò, ci troviamo davanti all'ufficio di Leicester. Perché l'ufficio di Leicester? Comunque c'è questa qui la sartoria di Leicester, perché abbiamo, cioè da qui praticamente inizia il nostro, il nostro colpo. Infatti la cosa che ci dicono è andare prima di tutto a andare al terminal, che sarebbe la ship terminal, cioè sarebbe tipo dove sta uscendo il veicolo, in teoria. Se appunto andiamo sul sito della mod, ci diranno anche i punti dove dovremo andare. Vai nel tunnel di fronte alla Leicester Factory, che sarebbe appunto l'industria comunque, cioè la fabbrica, e dovrei andare all'arbor, al porto, e rubare un armored truck che sarebbe un furgone rinforzato, ok. Prenderlo e portarlo nella scarpata, scarp, mi sembrava meno facile. Infatti qui ci introduce a dover rubare l'armored truck, ok. Andremo a farlo, vedete qua c'è l'inizio del colpo della Pacific Standard. Una cosa strana, perché siamo sotto un ponte? Perché non l'abbiamo fatto dentro la casa di Leicester, piuttosto? Perché la questione è un po' imbarazzante, cioè nel senso, siamo qui tutti per terra, non fare nulla, boh, mi sembra inutile come cosa. Quindi comunque, se seguiamo le foto che introducono, appunto, a parte quello che dobbiamo fare, ci dice anche dove dobbiamo andare precisamente. Infatti noi usiamo questo metodo. Infatti dovremo andare verso questa direzione. In teoria, però dovremo fermarci prima naturalmente, perché la questione è un po' chilo delicata, eh. Ok, ho dovuto prendere un adder, perché in realtà questo qui dovrebbe essere il veicolo più veloce del gioco. Però in realtà non viene mai classificato come veicolo più veloce del gioco, non capisco il perché. Qua c'è il puntino che è andato via, dobbiamo rimetterlo, ok, perfetto. Ora possiamo andare con un'auto, piuttosto che si fa un po' notare, eh, sono sincero. E va bene, così dai, non importa. Siamo lì a fare un colpo alla fine, comunque ho visto gente andare a fare un colpo con cose peggiori, cioè con veicoli più appariscenti. Brutto, imbecilo! No, allora ragazzi, come potete vedere non c'è nessun riparatore, niente, perché ad alcuni è rosicato, ho fatto rosicato tantissimo il fatto che il veicolo, la modalità, comunque, cioè dove io andavo a giocare era invincibile. Quindi ho detto no, non va bene, ma avete detto in mille, in mille, mille modi, quindi ho deciso di toglierla. Quindi naturalmente se ci fanno danno ci ammazzano. Naturalmente il nostro porto è molto vicino comunque, quindi in ogni caso ci possiamo arrivare molto facilmente, anche perché l'auto è abbastanza veloce, quindi non è un problema anche questo. Non ci dobbiamo neanche pensare a questa cosa. Occhio, passiamo per di qua. Eh sì, però se mi tagli... Beh, mi ho tagliato io la strada e mi ha dato anche del coglione, non so se avete sentito. Va bene. Non importa, non possiamo arrabbiarci perché non ho bisogno di far casino, non ho bisogno di essere molto appariscenti. Appariscenti un corno, qui si sta facendo solamente casino. E a me va bene così. Comunque la salita dovrebbe essere questa, sì, infatti, appunto non ci dice niente a nessuno. Passiamo per di qua, ok, i sorpassi strani in effetti mi faccio notare facilmente, vedete. E i casini, va bene, ok, qui possiamo passare, nessun problema, ok. Ah, oh, le doghe, ok, perfetto, vediamo un attimo se ci fanno dei controlli. Eh, ci fanno passare? Grazie, perfetto, andiamo. Possiamo sembrare piuttosto veloci, però in realtà... Ma guarda quel traffico c'è anche qui dentro, in questo porto, dove non ci sta nessuno, in realtà c'è il traffico, va bene. Posso andare per di qua? Sì, perfetto, ok. Io tagliato la strada e la maniera bruttissima, non si dovrebbe fare, però va bene. Allora, la zona dovrebbe essere quella lì accanto comunque, quindi in realtà bisognerebbe fare una cosa. Iniziate a nascondere l'auto da qualche parte, eh, e anche perché l'auto non possiamo più riprenderla. Accidenti, mi ero dimenticato del fatto, potevamo prendere un'auto schifosissima piuttosto. L'ho proprio dimenticato. Allora, cerchiamo di fare un giretto da qualche parte e cercare di salvarci. Ok, io la lascerei qui, non ci facciamo problemi, dai. Bisogna ricordarci di bruciarla subito dopo. Sì, per forza. Mi sa se ci avviciniamo un pochino, non ci viene detto niente, ok? Credo, va bene. Oddio, non so perché ho pensato che ci fossero tipo una stella di ricercata, non so per quale motivo. Va bene, noi andiamo avanti. Non ci facciamo problemi alla fine, cioè siamo persone giuste, no? Credo. Cioè, non diamo molto nell'occhio in realtà. Dan dan dan, ok, vedo da qui la polizia. Comunque, cerchiamo di stare lontani e non facciamoci notare. Ok, una persona che sta qua sopra, si nota? Sì, mi so di sì. Bisogna un pochino nascorderci, credo. Ehm, come si fa a uccidere una persona del genere? Ecco, ci hanno già sgambato. No, non ci posso credere. Maledizione andata malissimo, ok, giù. Ma che diavolo fanno? Uno, uno dietro l'altro. Non ci sono più poliziotti. E' un tre poliziotti veramente che stavano tenendo la zona? Ma davvero? Va bene, ok, basta che se ne scappino e non facciano gli eroi. No, accidenti. Non mi sono fatto troppo male, via via via. Ok, allora, è l'elicottero, no? E che diavolo? Eh, tre serie di ricercata, accidenti, è vero. Ragazzi, scusate, teniamolo via. Ok, scusate, dovevo farlo. Perfetto, vai tu, ah, ok, vai la scarpata. Perfetto, andiamo qui dentro. Ragazzi, ora il punto dove dobbiamo andare, secondo la mappa di gioco, è qui, in teoria, da questa parte. Dovrebbe essere qui, tipo. Stavo di ricordarmelo. Ora bisogna muoverci, dai, dai, dai. Ok, perfetto. Si è lentissimo questo affare, però. Il problema è questo. Come diavolo facciamo a tenere? Con quattro serie di ricercati, ciao. Io che diavolo faccio? C'è anche io le luci, bellissime le luci, ragazzi, della polizia. Guardate che figata, sono belle, belle accese, perché, appunto, c'è una mod che introduce... Eh, dai, toglietevi. Ma perché c'è la bandiera russa qui? Che diavolo, vabbè. No, e dove diavolo sono, tra l'altro, io? Dove devo andare per togliermi da qui? Ah, ok, perfetto, andiamo di qua. Almeno non abbiamo fatto nessun tipo di controllo, in realtà. No, a proposito di controlli, là c'è un piccolo blocco, aspetta. Se riesco a sbloccarlo, quel blocco, non so se riesco a bloccarlo, aspetta. Eh, vabbè, c'è una notizia e basta. Ciù, giù. Ok, perfetto, non riusciamo anche a passarci, visto? Ma che diavolo? Io mi stavo facendo mille problemi, anzi, meglio, perché si è bloccato tutto, perfetto. Oh, non so come è successo. Come è potuto succedere, è impossibile. Ok, va bene. Ok, stavolta, oh, cavolo, ho lasciato l'elicottero, mi sono dimenticato. Va bene, non importa, lasciamo stare, andiamo avanti. Sì, però questi blocchi, accidenti. Wops, ecco, bloccavo. Mi stanno sparando? Oddio, ragazzi, vi giuro che se mi sparano mi ammazzano, nel senso, la questione è questa. Toglietevi, accidenti. Lo storditore mi sa è inutile, va bene. Allora, come sto, come taglio la strada, va bene. Con la pistoletta, no, brutta. Oh, hanno cambiato il tipo di blocco qui adesso. Ok, toglietevi, oh, ok, sfondato, va bene. Ah, qua c'è, ero io prima. La mia macchina prima. Oddio, un elicottero, guarda quanto è vicino. La madonna, guarda l'incrocio. No, ragazzi, l'incrocio nella mappa è devastante. Aspetta, a proposito, dove devo andare? Togliti tu, non toccare, ok. Ho dovuto farlo, scusate. Guarda quanti arrivano, oddio. No, devo tenerli lontano in qualche modo. Quindi, solo fuoco, solo fuoco, perfetto, ok, ok. A un certo punto bisogna andare a sinistra. Cerchiamo di scatenare un po' di casino nella popolazione. Guarda, questo l'ho fatto benissimo. Ha salvato, ah, cioè, ha salvato, ha salvato, ha fatto. Uhhh, non dopo, quello lì è morto, ragazzi. Come fa? Oddio, che è successo? Mi sa che non ho ucciso la persona giusta. Non ho ucciso il conducente, cioè, non ho ucciso il conducente, in teoria. Ok, perfetto. Oh no, il blocco. Ok, dopo quel blocco dovrebbero andarsene. Ora questo, che diavolo fa? Ehi, ho investito un civile per colpa loro, colpa loro. Ok, oddio, sparte in testa questo, ok, perfetto. E questo qui mi sta sparando a me. Ok, ok, due stelle di ricercato. Sta scendendo il livello di ricercato, quindi possiamo stare su due stelle. Gli elicotteri se ne vanno, almeno quelli, dai. Ragazzi, guardate che blocco ce li sa. No, ok, bisogna scappare dalla polizia prima di arrivare. No, accidenti, ho fatto ritornare tre stelle. Accidenti, va bene. Eh no, stanno proprio sulla mia base, non possiamo farli scendere in quella base, accidenti. Io dove diavolo li lascio questi qui? Ok, vaffandomo, va. Brutto, strutto. Non riesco a distruggerlo. Wow, non riesco. Oh, cavolo. Sono immortali. Ok, uno è distrutto. Vaffandomo. Non riesco a ucciderli, va bene. Ok, facciamo il giro, bisogna fare il giro per fuori. Non ce la facciamo, ragazzi. Due stelle di nuovo, ok, possiamo scendere. Almeno è più facile questa cosa, perché sennò non ce la facciamo, veramente. Sì, però se mi stanno attaccati così, madonna santa. Che diavolo, dove devo andare? Ok, se lo iniziamo da lì in fondo, forse possiamo farcela, ragazzi. Ve lo giuro, non sto scherzando. Potremmo collegarci già da qui, però se facciamo il giro lungo, magari. Sì, però questo veicolo non è tanto veloce, eh. Ci conviene fare un po' di danno dalla popolazione e cercare... Oh, lo stiamo allontanando, però. Guardate. Sì, gli stiamo evadendo un pochino, ok. Perfetto. Eh no, però lui è proprio in quel punto dove io devo entrare, accidenti. Vabbè, entriamo prima. Ok. Oh, cavolo. Eh, vabbè, tanto mi vedono da qui. Non è possibile farlo. Però ho due stelle di ricercato e si perde la popolazione. Non se ne vanno, maledizione. Regà, non mi vedono. Non mi vedono. Non ci posso vedere. Dov'è. Vabbè. Si è perso tipo per un millisecondo, sennò mi sgravavano. Disattiviamo le luci, ok. Perfetto. Ora bisogna andare verso quella zona, perfetto. E la madonna... Allora, dove ci siamo? Ok, siamo a 700 metri. Meno male ho fatto questo giro, sennò non ce la facevo. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Perfetto, ok. Cerchiamo di metterci in una posizione abbastanza decente. Dovremmo essere vicini. Qua dovrebbe esserci tipo un magazzino dove infatti nasconderemo questo veicolo. In teoria. La posizione non ci cerca più, però comunque in ogni caso bisogna fare attenzione. Perfetto. Ok, siamo vicini al deposito. Magnifico. È perfetto questo posto. Magnifico. Ok, ragazzi, si poteva andare meglio, eh. Sono sincero. Anche perché non riesce manco a salire, accidenti. Ok, là c'è. Ok. Parking the armored truck. Ok, bisogna parcheggiare il... Qui? Bisogna parcheggiarlo? O lo si mette? Ok, io lo metto qui. Perfetto. Secondo me Trevor mi dice di andare dritto. Ok, andiamo dritto e toglietevi però. E dove la infilo? Ok, perfetto. L'ho messo... Lo metto qui dentro. Perfetto, ok, perfetto. Madonna, ragazzi, guardate quanto è pieno di buchi. Cioè, cioè, ragazzi, guardate... È pieno, pieno. Non ne ha. Da sopra c'è uno sparato, da sotto c'è uno sparato, da destra a sinistra e tutto quanto. Infatti, come ultimo, ragazzi, vedete, ultimo passaggio ci dice download day 2. Ovvero il secondo giorno. Infatti, qui, da quel che sto vedendo, intanto c'è Franklin e non capisco perché io sono Franklin. Non capisco sta cosa. Vabbè, ci sono cose che non capirò mai di questa mod. Comunque, non lo sapete ciò, il veicolo funziona bene e quindi, diciamo, l'abbiamo portato. Guardate quanto è mal ridotto. Cioè, ditemi voi quanti buchi ha. Se ci mettiamo a contatto ci perdiamo la vita. Più di una quarantina su una fiancata. Solo su una fiancata. Nel 35, mi sono fermato a 35, sono troppo stanco. Guardate, oddio, il davanti, com'è distrutto. Va bene. Dovrà essere rifocillato per il secondo giorno. Il giorno seguente, infatti, sarà quello della rapina. Quello dove, appunto, useremo per fare, diciamo, l'assalto alla Pacific Standard. E quindi, naturalmente, qui di sicuro ci metteremo i soldi. È abbastanza grande, dai, ce la farà. Speriamo vada bene, dai, semplicemente questo. Semplicemente questo. Io non capisco perché ci sia Franklin. E, tra l'altro, Trevor. Non capisco perché ci sia Trevor e non Michael, tipo. Invece qua c'è Jim che sta controllando le armi. Non capisco sta cosa. Va bene. Ah, guarda quanto C4. Oddio, guarda tutti i fili del C4. No, che figata. Vorrei crearlo io, una bomba. Divertente. Sembra divertente. Dico che sembra. Cioè, almeno che non esplode. Cioè, nel senso, una bomba finta, diciamo. Sarebbe carino da fare. Quindi, comunque, qua ci sono tutti i preparativi per la missione. Che ci sarà, magari, nel prossimo video, appunto, ragazzi. Il secondo giorno sarà nella seconda parte di questo video. Che avremo, avrà luogo, naturalmente, domani. Quindi, naturalmente, ragazzi. Aspettate domani, naturalmente. Stesso giorno, stessa ora. Cioè, no. Il giorno dopo, però, stessa ora. E, almeno, riuscirete a trovare anche questa zona. Comunque, qua è sempre un pochino distrutto. Qua c'è del painting, del... Come si chiama, scusate? Del... Della pittura blu. Ok? Mi sa per questo veicolo. Non lo so, sinceramente. Allora, il luogo, io non ho ancora letto, comunque, cosa ci saranno nel secondo giorno. Il secondo giorno è un attacco alla Pacific Standard, come potete vedere dal primo giorno. L'idea è quella. L'incipit ce l'ho. Però l'idea di come finirà, non lo so, sinceramente. Se avremo delle squadre. Naturalmente, ho un'idea che, di sicuro, questo veicolo ci servirà tantissimo. E sarà utile per tutto lo svolgimento della battaglia. Altre cose ci sono, non ne ho idea. Comunque, non lo state. Ciò sarà interessantissimo da vedere. Ehm, qua c'è... Vabbè, qua c'è la zona. Mi sa che dovevo parcheggiarlo qui, però meglio farlo entrare. Secondo me è meglio. Ok, gli elicotteri non ci cercano più. Ehm, qua ci sono alcune persone che, sinceramente, non so se sono dei nostri. In realtà, non dovrebbero dire né fare nulla. Oddio! Oh, ciao! Che belli! Ciao! Che carino! Guarda! Ah! Porca tro... Mi sono spaventato! Oddio! Mi sono spaventato! Ma che cavolo, mi ha attaccato! Ok, ha visto troppo, ha visto troppo. Oh, stava per chiamare la polizia. Ok, è morto. Perfetto, era per sicurezza. Mio Dio! Ma mi ha morso quel cane, maledetto! No, io pensavo fosse amichevole. No, invece mi ha attaccato. Non me l'aspettassi, non me l'aspettabbi. Allora, non lo sarebbe con nessuno se è fatto scrupoli o problemi, no? No. Perfetto, ok, abbiamo tolto un peso in più. Ora però bisogna anche nascondere quel cadavere. Ok, per i cani non ci facciamo problemi. Sono solo, appunto, dei cani. Non ci danno dei problemi. Lasciamo tutto bruciare. Non ci interessa, non ci serve nulla. E, appunto, il secondo corpo l'ho messo da nascosto qua dentro. Vedete? Dovrebbe trovarsi qui dentro, in teoria. Non so se si vede. Eccolo. Lo si vede un pochino alla mano, eccola. Quindi bisogna bruciare questo cespuglio. Perfetto, non importa, il cespuglio non ha problemi. L'erba è tutta secca, quindi prenderà fuoco facilmente. Quindi teniamo lontano semplicemente il veicolo. Niente di più. Abbiamo un materiale esplosivo. Cazzo. No, è troppo lontano, non avremo problemi di questo genere. Perfetto. E il fuoco non sembra voler accedere, diciamo, a tutta quanta la fauna. Se fosse stato Far Cry 2, avrebbe bruciato praticamente mezza capanna. Però, vabbè, non importa. Meglio così, in realtà. Il corpo ora non si vede più, è tutto nero, quindi non si può neanche riconoscere. Eccolo qui. Va bene così, anche nascosto in mezzo cespugli. Ci serve solamente per tenere, diciamo, tutto quanto pulito. Cioè, a un certo punto di vista. Infatti ne sono felice. Mi spiace solamente per quel cane. Avrebbe dovuto evitare di fare queste ghiassie. Ok, nasconderemo anche i corpi dei cani, poracci. E gli daremo un'adeguata sepoltura. Però mi hanno attaccato, ragazzi. Non è stata colpa mia. Non avrei mai voluto far saltare la cobertura e far scappare quel tizio. Mi dispiace solo per questo. I tizi del capanna accanto hanno visto qualcosa? Non lo so. Però prima o poi si accorgeranno che uno di loro è scomparso, no? Non lo so, un supervisore come lui, non lo so. Però intanto non sembra esserci problemi. Quindi va bene così. Teniamo tutto quanto pulito. Cerchiamo di sbarazzarci anche dei cani. Almeno non abbiamo più problemi. Neanche loro ne avranno. Ah, quindi niente, ragazzi. Il video di oggi finisce qui, naturalmente. Il prossimo video sarà sull'attacco alla banca. Quindi, boh, speriamo, ragazzi, di divertirci. Naturalmente il link alla moda in descrizione nel caso vogliate scaricare questa mod. Noi ci si rivedete in un prossimo video. Un saluto da Wolf. E bello a tutti. Ciao. 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 Ciao.